Termina 1-1 una gara molto combattuta tra San Benedettese e Notaresco con gli ospiti che hanno giocato senza timore reverenziale contro i più quotati avversari. Al primo affondo, al quinto, il Notaresco passa, azione d'angolo, breve batti e ribatti e conclusione vincente a centroarea di Cantarini per lo 0-1. La Samb non riesce a reagire come vorrebbe, il Notaresco si chiude bene e all'ottavo la difesa fa muro davanti alla porta su una conclusione ravvicinata ma fiacca di Cardella. Al sedicesimo, Proia ruba palla a centro campo e avanza fino al limite prima di cadere a terra chiedendo un intervento arbitrale che però non arriva. E comunque il preludio al pareggio che arriva un minuto più tardi, cross dalla tre quarti di Viscardi e incornata vincente all'incrocio di Cardella per l'1-1. Il Notaresco non demorde, regge bene e ha anzi un altro paio di occasioni a metà frazione al 26esimo con Migliorini che prolunga di testa una punizione di Gelsi sfiorando l'autogol. Al 28esimo poi è Manari a inarcarsi sulla sinistra sfiorando il palo opposto con un bel tiro a giro. Nella ripresa la Samba riparte meglio anche se il Notaresco chiude bene gli spazi. Al terzo ci prova Cardella con una punizione dei 25 metri ben respinta da Shiba. Poi al 22esimo sugli sviluppi di una punizione il colpo di testa di Maute è alto. Nell'ultima parte di gara il protagonista è il portiere Notareschino Shiba. Al 29esimo respinge in angolo una sassata dai 25 metri di Cardella. E al 33esimo è ancora lo stesso attaccante a provarci con un colpo di testa ravvicinato trovando il miracolo dell'estremo ospite. Noi sapevamo che loro potevano soffrire un pochettino dietro. Abbiamo cercato palla a terra di fare delle situazioni di gioco e forse con qualche controllo giusto ci presentavamo davanti al portiere quasi a colpo sicuro. Purtroppo non abbiamo fatto il secondo gol e quindi sapevamo che dovevamo soffrire il secondo. Anche con questi palloni alti dove loro sono bravi sia nei calciatori come Proia e sia naturalmente con le qualità di Cardella, vita. Insomma lì non manca niente per poter fare gol però secondo me non abbiamo perso la testa. Dobbiamo ringraziare i nostri più esperti come Bruno, Scognamiglio. Non voglio fare no, mi dico tutti bravi perché veramente è un bravo a tutti e sono contento ripeto per la società perché so gli sforzi che stanno facendo. È un anno diverso questo quindi speriamo di raggiungere quello che tutti vogliono. Purtroppo sì, purtroppo sì. Peccato perché stavamo bene, l'avevamo preparata bene e oggi ero molto fiducioso. Poi purtroppo quando il primo tempo l'abbiamo regalato anche oggi il secondo tempo forse meritavamo qualcosina in più noi e dobbiamo migliorare. Dobbiamo migliorare in casa perché le squadre poi ci si chiudono e noi dobbiamo essere i più bravi a fare il gioco. Sì quello c'è un po' condizionato, dopo cinque minuti abbiamo fatto su un calcio d'angolo la seconda palla. Siamo stati attenti, bisogna rivederla, voglio rivedere che qualcosa è successo e dopo lì un pochino ci ha condizionato. Poi l'avevamo ripresa, poi siamo un po' confusionari con la voglia di vincerla per forza, secondo me un po' più ordinati però andiamo a fare meglio. Sì dai, è giusto, loro hanno fatto quel calcio d'angolo, quell'occasione, poi Berti non ha fatto più la parata, noi abbiamo provato qualche occasione in più, ce l'abbiamo avuta però sempre troppo poco. Secondo Temo invece abbiamo giocato, a un certo punto l'abbiamo chiusi nella loro metà campo, poi sì vabbè dai, i loro giocatori di esperienza, qualche punizione in più, qualche fallo l'hanno presa. Grazie.